Per mantenere una società di Serie A ci vogliono tante risorse. Adesso è arrivata questa opportunità pazzesca, è arrivata da lontano, è arrivata dalla Russia, ma fa niente perché è arrivata da un grandissimo appassionato che ha in comune con noi la passione per questo sport e l'abbiamo colta al volo. Parla di giornata storica, Anna Cremascoli che resta presidente della palla Canestro Cantù anche se da oggi passa la mano, o meglio la maggioranza, al magnate russo Dmitri Gerasimenko, patron della squadra di basket Red October Volgograd e in prima linea, assieme alla moglie Irina, per la costruzione del palazzetto dello sport, mio papà Giovanni, ventitreesimo. Questa mattina l'atto dal notaio per sancire il nuovo assetto societario, infatti di quote. Nessun numero ufficiale, ma per Gerasimenko si parla del 65%. Una svolta arrivata all'improvviso nell'ultima settimana, anche se da mesi erano stati avviati i contatti grazie alla mediazione di Tutti Insieme Cantù, la società nata dal progetto di azionariato popolare avviato nel 2013 per sostenere il club Bianco Blu. Noi qualche mese fa, quando lui ci ha contattato perché voleva costruirci un palazzetto, gli abbiamo chiesto se voleva entrare in società con noi e lui non era interessato. Invece cinque giorni fa è venuto lui a cercarmi. Parlando è venuto fuori questo suo desiderio. Cosa ha pensato? All'inizio ho pensato di non capire bene, perché ho detto, vabbè, lui è un russo che parla inglese, sono un'italiana che parla inglese, probabilmente non ci stiamo comprendendo. Dopo un po' ho capito che invece avevo capito bene. Dopo aver rilevato parte delle quote dai soci Bianco Blu, dunque, da oggi Dmitri Gerasimenko è il nuovo azionista di maggioranza della palla Canestro Cantù. Cambia solo il fatto che magari possiamo vivere il basket con un po' più di tranquillità, lavorando sicuramente perché sarà un lavoro duro da fare e con una prospettiva nei prossimi anni di tornare ad essere dove la nostra storia ci ha abituato. Parlando di investimenti nell'immediato, per esempio, non sono esclusi alcuni aggiustamenti per la stagione in corso, anche se ormai è stata costruita su certi presupposti. Resta da capire quale sia il progetto per il club del magnate russo, oggi assente alla conferenza stampa. Quel che è certo è che gli altri soci hanno messo nero su bianco alcune garanzie per tutelare il futuro della palla Canestro Cantù, per esempio chiedendo di poter partecipare alle decisioni. Cosa ha provato stamattina? È un po' come quando tuo figlio diventa grande lo devi lasciare, quindi è un po' così, è un po' di nostalgia. Poi in realtà alla fine non cambia niente perché siamo ancora sempre tutti qua. Grazie. Grazie.